Qual è il vomito simpatico? Il vomito sintomatico si verifica quando la vista, il suono o l'odore di una persona che vomita provoca nausea e vomito. È un evento abbastanza comune tra gli umani, e alcuni scienziati ed esperti lo considerano un tratto evoluto nei primati. Il vomito sintomatico può sembrare una semplice reazione a una vista o un odore sgradevole, ma in realtà potrebbe essere radicato nella strategia di sopravvivenza. Il vomito può essere causato da una varietà di problemi fisici, tra cui dispepsia, indigestione, allergie alimentari o avvelenamento. L'atto di vomitare è causato quando il contenuto dello stomaco viene espulso con forza attraverso il corpo, espulso attraverso il naso e la bocca. Le persone colpite dal vomito possono avvertire palpitazioni e sudorazione e episodi ricorrenti di nausea. Un eccessivo vomito può anche portare a una grave disidratazione, in particolare se il corpo non è in grado di tenere giù cibo o liquidi. L'odore del vomito è ampiamente considerato uno dei peggiori al mondo e può indurre nausea in chiunque si trovi nelle vicinanze. Mentre questo può essere semplicemente una reazione ad un aroma maleodorante, è possibile che il corpo abbia una reazione inconscia all'odore o alla vista del vomito stesso. A causa della possibilità che qualcosa che il malato ha consumato li ha resi malati o avvelenati, il tuo corpo potrebbe decidere chimicamente di liberarsi di contenuti potenzialmente avvelenati. In gruppi di scimmie, è stato osservato vomito di gruppo simpatico dopo che un animale si è ammalato dopo aver mangiato. Poiché gli altri animali della tribù hanno probabilmente mangiato le stesse cose, il vomito simpatico può essere usato come tattica di sopravvivenza. Alcuni esperti pensano che il bisogno di vomitare possa essere controllato consumando determinati cibi e bevande o tentando di rilassare il corpo attraverso la respirazione profonda o altre tattiche di meditazione. Se ti senti nauseati, prova a bere lentamente una bibita gassata come il seltzer, o fai un passo fuori per prendere un po' d'aria. Cerca di distrarre la mente con un'attività e non mangiare cibi molto caldi o freddi per un po'. Se temi di essere soggetto a vomito simpatico, esci dalla stanza o dall'aria se qualcuno sta vomitando o sembra ammalarsi. Allontanarsi dalla vista, dall'odore e dai suoni potrebbe impedirti di subire effetti negativi. Si consiglia di provare a prendere un farmaco antinausea, come quelli venduti per prevenire il mal di mare. Ancora una volta, cercare di distrarre la mente potrebbe essere la chiave per prevenire nausea e vomito. Tuttavia, non provare ad allenarti subito, poiché alcuni tipi di sforzo possono indurre nausea.